ben trovati amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi sabato 21 ottobre 2023 e vediamo subito chi si festeggia oggi così cominciamo la giornata prima di dare un'occhiata ai giornali ebbene il santo di oggi è un santo dei nostri giorni si tratta del beato giuseppe pugliesi eccolo qui con il suo volto sorridente don giuseppe con don giuseppe siamo ai giorni nostri giorni non meno turbolenti del passato quando i fedeli della chiesa erano oggetto di grandi persecuzioni ebbene nato nel quartiere di brancaccio nel palermitano nel 1937 divenne sacerdote nel 1960 quindi siamo veramente nei giorni nostri e dopo vari incarichi fu nominato parroco della parrocchia di san gaetano nella parrocchia proprio del suo quartiere nel 1993 fu ucciso dalla mafia della quale aveva denunciato malaffari e intimidazioni per questo è stato appunto beatificato don giuseppe pugliesi le previsioni del tempo tempo ancora incerto su tutta la nostra regione cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano i venti saranno tesi il mare è mosso le temperature 16 24 gradi questa è un po la situazione di un tempo che sta migliorando rispetto appunto le perturbazioni della settimana che sta per volgere al termine e allora apriamo il giornale il resto del carlino a partire dalla pagina di fano l'articolo di apertura l'articolo di apertura dedicato ad un evento che si svolgerà domani a fano un evento importante al quale partecipano circa un migliaio di persone quindi veramente una partecipazione molto molto nutrita la camminata in rosa sfiora quota mille afferma il carlino ma lo ha affermato ieri anche l'assessora alle pari opportunità sarà cucchiarini nel presentare l'iniziativa al pari centro insieme a diverse collaboratrici perché sono diverse poi le associazioni che collaborano a questa iniziativa iniziativa inserita nel mese rosa nell'ottobre rosa ovvero il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno tant'è vero che tutti i partecipanti che parteciperanno domani a questa grande camminata indosseranno una maglietta rosa che verrà distribuita verrà data gratuitamente a tutti coloro che si sono iscritti ancora magari c'è tempo per qualche prenotazione e per testimoniare appunto la sensibilità verso la prevenzione che è la miglior cura per poi vincere questa terribile malattia ancora oggi molto molto presente nel nostro territorio come si svolge il programma della camminata così come lo ha spiegato l'assessora cucchiarini ebbene alle 8 e 30 si comincia in piazza con la registrazione degli intervenuti e poi dopo una foto di gruppo alle 9 e 45 è previsto insomma il raggruppamento di tutti e le 10 la partenza la partenza per un percorso che si delineerà dal centro storico nella zona mare corso matteotti via arco d'augusto via delle rimembranze poi si andrà in viale cairoli lungomare simonetti si passa in viale adriatico si risale verso viale battisti 5 chilometri ovviamente si andrà con un'andatura molto molto praticabile non ci sono asperità anzi il corteo sarà seguito dalla polizia municipale poi ci sarà anche la protezione civile insomma una organizzazione a tutto tondo a cui collaborano anche la croce rossa l'associazione donne medico insomma altre associazioni che costituiranno che avranno dei boxe col quale effettueranno dei servizi ci sarà anche fanocuore per esempio con il defibrillatore e poi un'altra iniziativa importante questa però non si tiene domenica ma si tiene la prossima settimana è stata presentata nella giornata di ieri nel castello di Montegiove una location veramente molto suggestiva sulle pendici di Montegiove presentato il Fano International Film Festival Pongo l'accento su International perché pensate sono tantissime tantissime le nazioni che hanno partecipato a questo evento 2000 sono le opere giunte al concorso un concorso che è stato ideato e portato avanti dal direttore artistico Fiorangelo Pucci ieri c'era anche l'assessore alla cultura Cora Fattori che ha evidenziato l'importanza di questa manifestazione sono 2000 le opere giunte da 100 nazioni del mondo e ci sono veramente le più disparate dalle più grandi dagli Stati Uniti alle più piccole il Nepal insomma le più lontane veramente un mondo che conoscerà Fano proprio tramite il Fano International Film Festival e quest'anno è un'edizione tutta particolare perché si svolge al cinema Masetti in prevalenza in orario pomeridiano in orario tardo pomeridiano si inizia infatti alle 19 e alle 20, 20 e 30 tutto dovrà essere terminato perché poi inizierà la programmazione abituale della sala cinematografica ebbene quali sono gli interpreti di questa edizione la 35esima Donatella Finocchiaro ha avuto il gran premio alla carriera mentre quello come migliore attrice se lo ha aggiudicato Valentina Belle e poi ci sono anche delle concorrenti nostrane come L'anima in pace opera di Ciro Formisano che ha ottenuto il premio come miglior lungometraggio e due italiani come Stefano Sbrulli e il miglior film di autore italiano Targa Feidic Miranda Smain di Maddalena Crespi questi sono i principali autori che verranno premiati nella serata finale serata finale che avrà un orario ovviamente serale e non alle 19 e poi ci sono anche altre iniziative ce n'è una per esempio a mezzanotte e un'altra alle 6 del mattino con colazione quindi questo festival è molto molto articolato ma abbiamo parlato abbastanza del Fano Film Festival ne parleremo anche nei prossimi giorni ed ora passiamo alle altre notizie cerca tartufo di notte non si può è vietato, i carabinieri lo multano è accaduto l'altra notte nella zona di Cartoceto la sanzione è di 600 euro con il ritiro del patentino la legge regionale vieta l'attività sotto le stelle la raccolta del tartufo per legge è consentita solo dalle 5.30 del mattino alle 18.30 e non è mai consentita in orario notturno ebbene ora andiamo a Caminate a Caminate c'è una strada ridotta veramente in condizioni pietose ce ne sono diverse di queste strade dobbiamo dire ma quella di Caminate veramente è in particolare stato di degrado ecco qua alcune immagini di questa strada con le crepe, con le buche, nell'asfalto ebbene in questo caso gli automobilisti si sono rivoltati si tratta della via San Vitale che poi diventa anche via della tomba un incubo quotidiano per chi la deve percorrere tutti i giorni con profonde buche e fossi sul percorso di chi va da Caminate a San Costanzo una via un po' appartata una via che percorre il nostro entroterra che comunque deve essere curata come tutte le altre vie ed ora andiamo a Mondolfo a Mondolfo un servizio che viene evidenziato dall'assessore Alice Andreoni responsabile dei servizi scolastici del comune ebbene da un protocollo d'intesa tra il comune di Mondolfo e gli istituti comprensivi Enrico Fermi e Fa Di Bruno è nato l'organo consultivo mensa scolastica rappresenta uno strumento snello quanto efficace di monitoraggio di tutti i cibi ed è il servizio mensa che viene praticato agli studenti un servizio costante che si occupa della qualità della natura e soprattutto anche dell'alimentazione dei bambini si viene fatta in modo corretto oppure in modo disordinato in questo caso appunto il servizio si qualifica sempre più e posso fare anche il riferimento alle mese scolastiche fanesi che sono state giudicate al top addirittura a livello nazionale secondo una statistica che ormai la premia da tre anni premia questo servizio da tre anni quindi Fano è particolarmente fiera di questo risultato ma anche Mondolfo insomma lo è passiamo ad Urbino ad Urbino la città ha accolto con un'iniziativa particolare di grande festa a tutte le matricole che si accingono a frequentare il prossimo anno universitario ragazzi è qui la festa universitari in delirio in delirio c'è stata una festa proprio in piazza nel cuore di Urbino con una band la possiamo vedere qui in questo palco e qui tutti i ragazzi che affollano la piazza una bella sorpresa per chi ha intenzione di studiare a Urbino che sono studenti che vengono un po' da tutte le regioni d'Italia e quindi una bella forma di accoglienza per iniziare l'anno scolastico passiamo a... no restiamo a Urbino restiamo a Urbino perché il sindaco Gambini ha annunciato l'installazione di 12 parcometri di nuova generazione Urbino Servizi ha speso 120 mila euro per qualificare il servizio ora puntiamo al telepass per le aree coperte ha detto il sindaco questi nuovi parcometri sono dotati sono alimentati anzi a energia solare con possibilità di pagamento tramite il post quindi una cosa molto celebre non c'è bisogno nemmeno di mettere e di scrivere la targa il parco dello Zolfo va commissariato è una esigenza che evidenzia il consigliere regionale Giacomo Rossi che chiede un reset del consiglio di amministrazione Aguzzi sono scoraggiato non dipende dalla regione ha replicato l'assessore che cos'è il parco dello Zolfo? il parco dello Zolfo è una entità regionale diciamo così provinciale anche che raggruppa tutte quelle città dove ci sono quelle località dove ci sono le minieri di Zolfo nella nostra regione ce ne sono parecchie di queste miniere che un tempo davano lavoro a tante persone ma purtroppo provocavano anche effetti disastrosi dal punto di vista sanitario ebbene di questo parco fanno parte Urbino, Pergola, Arcevia, Sassoferrato, Talamello, Sant'Agata Feltria, Nova Feltria e Cesena un parco che riunisce appunto queste miniere ormai musealizzate che ricordano un'epoca che ormai è tramontata queste miniere ormai sono tutte esaurite e non sono in funzione mentre a Frontone si difende la Pedemontana questa arteria che dovrebbe collegare nelle propaggini appenniniche Ascoli Piceno con l'Emilia Romagna passando per Amandola, Sarnano, Matelica, Fabriano, Sassoferrato, Cagli, Urbania, Sant'Angelo Invado, Pennabilli e poi verso l'Emilia Romagna è una bella alternativa alla Statale 16 che come noto percorre la costa ed è un'arteria da difendere la difende l'assessore Enrico Cencetti di Frontone che insiste sull'urgenza del tragitto Sassoferrato-Cagli che è quello che interessa maggiormente la nostra provincia in quanto c'è una distrazione che potrebbe così allungare i tempi perché ora si pensa di realizzare il tratto Sassoferrato-Pergola-Fossombrone questo sarebbe per Cencetti un colossale errore lo ha dichiarato e poi una polemica per quanto riguarda la concessione del tartufo d'oro uno dei massimi riconoscimenti di Sant'Angelo Invado che questa volta privilegia l'operatore Giovanni Fileni ebbene Fileni è a capo di un'industria che ovviamente opera il Pollame si tratta di una filiera biologica così viene propagandata dalla ditta che però insomma viene considerata con una contraddizione in quanto secondo alcuni ambientalisti nasconderebbe grandi contraddizioni in un'epoca così delicata insomma di biologico sì ci sarà senz'altro tanto però insomma c'è qualcosa che non va secondo appunto una tesi di parte vediamo anche la pagina pesarese del resto del Carlino che riguarda come poi vedremo anche l'apertura del Corriere Adriatico sulla pagina di Pesaro il Cavalca Ferrovia de Sabata il Cavalca Ferrovia rimarrà chiuso per un mese per lavori di manutenzione gli operai lavoreranno di notte dalle 23 alle 5 di vieto di accesso si comincia lunedì prossimo quindi il provvedimento è molto molto vicino tutto durerà fino al 25 novembre esclusi alcune giornate soprattutto venerdì e sabato quando poi il traffico è molto più intenso e poi c'è la protesta di un residente pesarese che si è visto con la sua abitazione imprigionato da una rotatoria Casellino, le sue prigioni ho la casa dentro la rotatoria non so come farò ad uscire è il caso paradossale di Oscar Massalini titolare di una nota tabaccheria in città ebbene un progetto questo che non ha tenuto conto delle esigenze di questo cittadino e poi vediamo che a Pesaro l'obiettivo rifiuti i zero un obiettivo che riguarda anche la polizia della città in maniera determinata che viene attuato proprio in questo periodo riciclare è un imperativo per i ragazzi annunciate anche se ancora non ben definite tutta una serie di iniziative per insegnare l'arte del riuso agli studenti entro il 2030 Pesaro sarà la città più virtuosa d'Italia dal punto di vista ecologico ambientale e poi volevo segnalarvi questo fatto di cronaca un minorenne accusa con la scusa della bici quell'uomo mi ha toccato è un ragazzino che aveva avuto un problema alla bici si era recato da un ciclista era stato avvicinato da un uomo un sud un uomo adesso non lo qualifichiamo un quarantotenne ecco diciamo che è un quarantotenne l'aveva poi portato in un locale ha partato aveva tentato di toccarlo però il ragazzo ha resistito ed è fuggito e poi ha raccontato tutto ai genitori ebbene la testimonianza una testimonianza lucida determinata l'ha fatta ieri davanti al giudice ed ora passiamo al Corriere Adriatico ecco qua l'apertura l'apertura è dedicata ad una riunione che si è svolta l'altra sera nel quartiere del Poderino dove i residenti esasperati hanno detto basta alle scorribande di gruppi di giovani che sono veramente tumultuosi provocatori che sono insomma all'ordine al limite della devianza Baccano e atti vandalici situazione insostenibile al Poderino i residenti sono esasperati chiedono che si incentivino i controlli soprattutto ormai si installino le telecamere perché senza queste non c'è né prevenzione né un aiuto alle forze dell'ordine per poi fare le indagini in caso di problemi che sorgono appunto nell'ordine pubblico ordine pubblico che viene messo a rischio perché gruppi di ragazzi in modo particolare il sabato sera e appunto quello che si profila è la sera proprio di oggi gruppi di ragazzi si radunano alcuni si comportano ovviamente correttamente sono lì per fare amicizia per discorrere per divertirsi in maniera corretta ma ci sono altri invece che oltrepassano le righe e le oltrepassano parecchio le righe guardate come hanno ridotto una panchina l'hanno completamente sradicata dalla pavimentazione di piazza unità d'italia l'hanno distrutta completamente si sono accaniti su questa panchina riducendola veramente in uno stato pietoso e poi graffiti graffiti dappertutto anche con simboli che sono che sono quelli che vedete le piante vengono distrutte insomma e poi c'è stato anche un atto veramente dequalificante quello di aver trovato delle feci all'interno della cappellina della chiesa di San Pio X e questo veramente è il colmo allora bisogna correre ai ripari era presente anche il consigliere comunale della Lega Luigi Scopelliti che cercherà di attivare forze politiche e amministrazione comunale per correre ai ripari vediamo le altre notizie pubblicate dal Corriere Adriatico si parla di molestie sessuali è il caso riportato anche dal resto del Carlino ma ce n'è un altro un altro che riguarda una ragazzina una ragazzina che sarebbe stata avvicinata una ragazzina di 13 anni pensate che è stata avvicinata da un 45enne fanese nel retro stanzino di un bar in un bagno e questo avrebbe tentato di palpeggiarla la ragazza è fuggita molto molto spaventata un altro minore conferma in tribunale i toccamenti e baci subiti da un 62enne nel suo laboratorio sono due casi di bambini insomma è triste che queste cose si ripetano nonostante che si cerchi veramente di diffondere la sensibilità di una sensualità corretta e pacifica passiamo ad altre notizie vediamo un atto di cronaca sempre che riguarda Fano un infortunio sul lavoro scoppio alla Tecno collaudi un operaio ferito al braccio trasportato in elia ambulanza all'ospedale regionale di Torrette e operato di urgenza ha riportato un trauma di estrema gravità al braccio sinistro tali da richiedere l'intervento dell'eliambulanza è accaduto nella Tecno collaudi alle 16 di ieri in via Enaudi a Bellocchi di Fano vittima dell'infortunio un operaio dell'impresa fanese di 50 anni e poi l'articolo che riguarda il furbetto preso di notte a cogliere tartufi e insomma la multa salata abbiamo visto che è di 600 euro passiamo a terre roveresche a terre roveresche c'è una precisazione per quanto riguarda un esproprio nessuna notifica dal comune l'alloggio non è abbandonato si tratta di un appartamento conteso è il primo a destra di questo immobile di Barchi lo vedete qui in questa fotografia è l'avvocata Chiovelli che contesta la procedura che è stata attivata vediamo anche la pagina di Senigaglia un maxifurto d'arte a liceo classico Perticari rispunta un altro quadro era a Barcellona si tratta di un dipinto settecentesco di Rebecca Alpozzo ritrovato dai carabinieri era tra i 15 che erano stati rubati nel 2004 è stato ritrovato è il più grande dipinto costudito nell'aula magna del Perticari a Palazzo Gerardi e quindi prosegue il processo di ricettazione all'Aquila dove era stato trovato il dipinto del cardinale Giuseppe Doria trafugato nella vecchia sede appunto del liceo classico a Palazzo Gerardi è stato rinvenuto questo quadro che è veramente di grandi dimensioni ed è anche molto molto bello Rebecca Alpozzo dove appunto viene trovata e poi tutto il contesto della Bibbia che segue in questa vicenda allora diamo un'occhiata anche alle pagine pesaresi dove ovviamente si parla del Cavalcavia De Sabata per il Cavalcaferrovia scatterà da lunedì la chiusura notturna e abbiamo due dichiarazioni degli assessori Belloni e Pozzi lavori complessi in sincronia con il passaggio dei treni bisogna tener conto anche del passaggio dei treni e poi vediamo che il Comune si appresta a pubblicare il nuovo piano delle antenne 5G una situazione questa ora un po' all'arembaggio sappiamo che le antenne nascono un po' di qua e là senza alcuna programmazione ora invece con questo piano forse dico forse si potrà porre un ordine se non un limite al proliferare delle antenne per ora gli impianti saranno ridotti da 56 a 34 probabilmente vengono addensati lunedì sarà presentato questo piano ai quartieri interessati resta però insoluto il caso di Fiorenzuola Manenti pubblica dice che sono stati commessi troppi troppi errori un bambino di 8 anni cade dalla bicicletta e con il manubrio si ferisce ad addome l'incidente è accaduto ieri pomeriggio a Colbordolo è stato trasportato in codice rosso a Torrette in eli ambulanza speriamo appunto che la sua situazione non sia grave e con questa speranza noi terminiamo la nostra rassegna stampa vi do appuntamento a lunedì prossimo sempre alle ore 7 vi auguro un buon weekend e anche una buona giornata grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto